Tale Don Giorgio del Vecchio, responsabile pastorale alle persone sorde, interviene in difesa di Don Giuseppe Cavaliere, nuovo parroco della chiesa di San Nicola a Barletta, da cui l'ente nazionale sordi sezione provinciale è stato sfrattato. Era stato lo stesso ente ad informare la stampa dell'accaduto, sia verbalmente attraverso suoi scritti, sia con una nota ufficiale nella quale affermava che il nuovo parroco li aveva sfrattati dai due locali che occupavano nella parte sottostante la chiesa, messili a disposizione dal suo predecessore Don Vito Carpentiere. La nuova gestione, si affermava nella nota, avrebbe accampato la motivazione di voler incrementare il catechismo e conseguentemente di aver bisogno di tutti gli spazi, dandogli tempo sino a sabato per portare via le proprie cose. Seguivano le doglianze dell'ente, che conta 120 iscritti e che utilizzava quei locali per la propria attività tra cui corsi in lingua dei segni, che avevano dato importanti risultati verso l'abbattimento delle barriere di comunicazione tra sordi e cittadini. Don Giorgio del Vecchio contesta quanto affermato. Scrive che in un colloquio avuto con gli associati, Don Giuseppe Cavaliere, avrebbe manifestato il suo dispiacere, ma che i locali gli servivano per ampliare le attività catechistiche e aveva offerto un altro spazio la domenica sera, quando le attività erano sospese, manifestando l'eventualità di poter ridare ospitalità ai sordi, ma tra qualche anno. Del Vecchio aggiunge che, sentito l'arcivescovo, presenti il presidente dell'ente Silvano Vassalli e il fiduciario avvocato Davide Di Matteo, il presule ha invitato tutti ad avere un incontro chiarificatore con Don Giuseppe per cercare una soluzione. Nel frattempo il vicario generale si interesserà a indicare ai sordi altri luoghi indipendenti per poter trovare dignitosa accoglienza. Queste le due versioni. La cosa comica è che le contestazioni di Don Del Vecchio non vengono fatte a lente, ma a Telesviva che si è limitata a riportare, come altre testate, la nota stampa e le proteste verbali. Don Del Vecchio parte quindi con una serie di idiozie su giornalismo gridato ed espresso con giudizi sommari e frettolosi, un altro che vuole impartirci lezioni. Noi rispediamo al mittente queste cretinate e auguriamo a Don Del Vecchio di saper fare il prete come noi sappiamo fare i giornalisti. Tornando ai fatti, se Don Del Vecchio consente e anche se non consente, non possiamo non rilevare che le risposte date all'ente provinciale dei sordi non deve averli molto convinti, visto che hanno deciso di rivolgersi ugualmente alla stampa per denunciare l'accaduto. Inoltre è lecito chiedersi come mai ciò che era possibile con Don Carpentiere, non lo è con Don Cavaliere. Forse il primo ha avuto delle lacune nello sviluppare la catechesi. Non ci sembra, visto la stima e l'affetto da cui era circondato. Comunque sono questioni in cui non vogliamo entrare più di tanto. Ci siamo limitati a riportare le affermazioni dell'ente provinciale Sordi e ora la replica di Don Giorgio Del Vecchio. Noi siamo solo dispiaciuti e l'abbiamo evidenziato nei toni del servizio contestato, per quanto accaduto e per le avversità che ora dovrà affrontare un'associazione meritoria come l'ente dei sordi, auspicando una soluzione anche attraverso una disponibilità dell'amministrazione comunale. Nella vicenda siamo stati tramite e non certamente la controparte di Don Cavaliero della Curia, come scorrettamente, artatamente e in modo mistificatorio ha cercato di far credere Don Giorgio Del Vecchio.